Buongiorno, siamo qui in presidenza dell'Iceo Seneca, in cui gentilmente la dottoressa Tusi ci ha accettato per questa intervista. Il motivo principale della nostra presenza qui è voler dare voce a tutti i genitori che da tempo ci stanno pressando per ottenere qualche risposta un po' definitiva, ufficiale da parte della giunta esecutiva. In particolare chiedevamo alla preside se era possibile darci delle rassicurazioni in merito alle questioni delle problematiche relative all'infrastruttura dell'istituto. Ci riferiamo particolarmente a problemi magari minori, però magari più sentiti dai ragazzi, come a volte la presunta presenza di muffa all'interno delle classi e tutte quelle problematiche derivanti per esempio dall'invecchiamento e magari dalla scarsa o mancata presunta ristrutturazione riguardanti per esempio l'allegamento che c'è stato, se ricordo bene, la settimana scorsa e che ha causato la chiusura della scuola. Innanzitutto saluto ovviamente il presidente del consiglio d'istituto, il dottor Costantino, con il quale abbiamo da poco instaurato un rapporto di collaborazione perché lui è stato eletto presidente a novembre nel consiglio d'istituto e quindi stiamo in effetti in una fase di conoscenza anche reciproca e vogliamo in questo modo anche affrontare per quanto possibile insieme delle problematiche. Allora, fermo l'istante che dobbiamo sempre fare dei distinguo nelle varie cose perché quello che può apparire all'esterno come un'unica problematica in realtà è sempre legata a situazioni e a cose diverse. Quindi io farei questa prima operazione. Allora, la scuola purtroppo vive dei momenti diciamo di emergenza, chiamiamoli così. Alcuni dovuti a delle situazioni assolutamente non prevedibili, alcune probabilmente causate anche dagli stessi studenti perché abbiamo avuto i topi nella scuola, mi sembra, a novembre e quindi io sono intervenuta prontamente a pulire e a chiamare una ditta di derattizzazione, la stessa ditta d'orta che poi viene diciamo chiamata dalla ASL, quindi non parliamo di persone strane alle problematiche specifiche, parliamo di persone competenti nel settore, i quali in un primo momento abbiamo fatto un semplice intervento di pulizia, poi successivamente, poiché si è ripresentato la presenza di un topolino all'interno della scuola, mi hanno consigliato di mettere le trappole perché si poteva avere appunto una sorta di nidiata. Non rilevando alcun topolino abbiamo dedotto insieme con gli operatori dell'ASL che molto probabilmente questi topolini sono stati portati. Anche il fatto stesso che siano stati catturati molto facilmente dai collaboratori scolastici fa presumere che non siano dei veri topi ma delle cavie, quindi tutto questo depone sostanzialmente a una sorta di azione di qualcuno che vuole boicottare il normale funzionamento della scuola. Altrettanto abbiamo avuto un'intrusione, mi sembra a novembre, nella parte proveniente dalla scala laterale sinistra rispetto all'entrata, secondo piano, un'intrusione che è stata sempre regolarmente denunciata alle forze dell'ordine, che poi ha visto come conseguenza, in questo caso fortunosamente non devastante, però un tentativo di allagamento perché abbiamo trovato i flessibili dei lavandini tolti, l'acqua era chiusa perché noi siamo soliti chiudere l'acqua, i collaboratori chiudono l'acqua quando se ne vanno, però trovando questa situazione se l'acqua fosse stata aperta ci sarebbe stato un allagamento e anche in questo caso purtroppo sono atti vandalici che io ho regolarmente denunciato. E vabbè, poi passiamo alle situazioni invece che non sono attribuibili ad atti vandalici e quali possono essere state. Adesso sicuramente c'è stato recentemente quello a cui si riferisce il presidente che praticamente ha visto la scuola allagata perché purtroppo il tubicino che porta o che comunque collega i bagni delle palestre con le macchinette dei distributori ha avuto, diciamo che si è rotto e quindi è fuoriuscita dell'acqua. Ancora dobbiamo accertare se ci sia stato un dolo oppure un semplice incidente. Questo è l'ultimo recente. Poi abbiamo avuto, se non mi sbaglio, adesso noi viviamo questa situazione di un'aula, già una quindicina, ventina di giorni, in cui praticamente un'aula è stata oggetto più che di infiltrazione, di una sorta, come posso dire, essendo la parete esposta alla pioggia, all'intemperio, la parete si è, come dire, inumidita, a seguito di questo umido si è creata una sorta di muffa. Adesso io, è un termine che è stato usato, veramente non so se è proprio muffa, il grado di pericolosità, diciamo, non lo so valutare al 100%, comunque in via precauzionale i ragazzi sono stati spostati. Però questo ha creato, purtroppo, una sorta di contestazione negli studenti, perché in quell'aula era, inizialmente, doveva stare una certa classe, la quarta B. Poi questa classe, presentando al suo interno un ragazzo asmatico, sono stata sollecitata dagli stessi genitori a trovare una soluzione. Quindi è stata spostata al posto della classe quarta M, ma, in effetti, è stato ripristinato l'originario assestamento delle classi, nelle aule, perché, guardando le piantine, mi sono accorta che c'era stato un errore. Allora, la quarta M è rientrata in quest'aula, però, poiché anche lì c'erano delle situazioni di asmatici, o comunque, sostanzialmente, questa classe sta ruotando sulle aule libere che sono presenti all'interno dell'istituto di giorno in giorno, perché molte classi escono per fare attività alternative. Però questa soluzione ha trovato la contestazione da parte degli studenti, tant'è che mi sembra venerdì scorso, non mi vorrei ricordare male, gli studenti dapprima sono entrati, ma non sono voluti entrare in aula, l'aula che gli era stata assegnata, insomma. Poi sono entrati, ma sono rimasti nel corridoio. Insomma, c'è stata una situazione molto antipatica, molto sgradevole, perché i ragazzi, praticamente, sono rifiutati di andare in quest'aula, loro assegnata, sono rimasti fuori i corridoi, e, insomma, diciamo, in una situazione sicuramente non consona. Ora, stanno, poi, a seguito di questo, ho di nuovo richiamato, avevo già chiamato, diciamo, la ditta armena, che di solito li abbiamo richiamati, li ho risollecitati, e sono venuti ieri, anche in virtù, purtroppo, gli eventi meteorologici che hanno causato qualche piccola altra situazione, un po' così, tipo delle grondaie sopra, sono già intervenuti ieri, hanno visionato l'aula e hanno detto che, insomma, da qui a breve provvederanno a sistemarla. Dottoressa, mi dà, appunto, lo spunto, l'assist, alcune delle cose che ci, degli episodi che ci ha raccontato, per chiederle, o meglio, anche farle presente, che probabilmente alcuni, appunto, di questi episodi potrebbero essere, in qualche modo, diciamo, evitati o prevenuti, se si potesse pensare, diciamo, in un futuro breve, anche altri episodi che mi ha raccontato lei di furti che ci sono avvenuti negli anni, attraverso dei sistemi di sicurezza. Se si ricorda, noi ne abbiamo già parlato, e abbiamo già chiesto di verificare, se è possibile inserire, nelle prossime voci di bilancio, insomma, appena ci saranno fondi, possibilità di aggiungere dei sistemi di sicurezza, come telecamere o impianti di antifurto. Pensa che sia una strada seguibile nel prossimo futuro? La premetto che, comunque, noi abbiamo già ripristinato il sistema di antifurto che era, diciamo, nel corso del tempo si era rotto, aveva avuto dei problemi, no? Perché il quale sistema di antifurto, comunque, è stato strutturato insieme con la scuola dalla provincia. Però siamo riusciti a ripristinarlo, anche se funziona, alle volte, anche qui, con qualche criticità. Cioè, alle volte suona quando non dovrebbe suonare, o alle volte non suona. Però, comunque, rispetto a prima, è stato ripristinato. Successivamente, a questa azione di ripristino nell'antifurto, l'idea di mettere telecamere è stata già presa in esame, anche nei consigli di istituto precedenti, dove lei non era presidente. Però, diciamo che, sostanzialmente, non abbiamo neanche da opporre, anche se io, personalmente, ritengo che, diciamo, come azione di prevenzione, sicuramente può avere un valore, però, poiché è stata fatta già in un'altra scuola precedentemente, questa, abbiamo messo le telecamere nella scuola precedente che io dirigevo, cioè, io mi sono accorta che, in sostanza, quando entrano queste persone, si mascherano, cioè, si mettono i cappucci in testa, e quindi è praticamente quasi impossibile identificarle. Mi è capitato nella scuola precedente che anche lì c'erano dei furti, e quindi, mettendo il sistema di telecamere, e una volta riuscimmo, diciamo, a vedere proprio la parte, ma la consegnai anche ai carabinieri, i quali mi dissero, comunque, per esempio, quando si vede niente, perché sono incappucciati. Mi dissero, guarda, ma io non è che posso fare, cioè, più di questo che faccio non posso fare. Cioè, quindi, le possiamo anche mettere queste telecamere, però, chiaramente, loro non vengono a visto scoperto. Quindi, trovano un po' il tempo che trovano, però, se le vogliamo fare, è il tempo, comunque, di fare, come al solito, sempre una piccola gara, eccetera, eccetera, la procedura, sappiamo come farla, possiamo farla, non è un problema. Ho qualche perplessità, perché, ritorno a dire, per esperienza, la mia esperienza è stata questa, che se vengono e entrano, certamente si coprono il viso, e quindi è difficile, poi, comunque, identificarli. Mi permetto di dire che, essendo io un esperto del settore, è chiaro che un impianto di videosorveglianza, senza un impianto di antifurto, non serve a nulla. Rimettere mano a un impianto di videosorveglianza, sarebbe, comunque, l'occasione, anche per vedere, nel dettaglio, questo che c'è attualmente, impianto di antifurto, e, eventualmente, o sostituirlo, o, non so, aggiornarlo, insomma, metterlo un po', renderlo migliorativo, insomma, rispetto a quello attuale. Sarebbe tutto un pacchetto, però, io non ho nessuna preclusione, però, a questo punto, nel prossimo, diciamo, consiglio d'istituto, lo riportiamo all'attenzione. Per me, non ci sono problemi, insomma, grossi problemi, anche se la provincia, comunque, aveva detto che, li avrebbe, anche qui, sarebbe anche intervenuto, però, tenendo conto di questi tempi, un po' lunghi della provincia, se noi vogliamo operare, possiamo farlo, insomma. Però ci vogliono i tempi, non è che si fa dall'oggi al domani, ci vuole un certo tempo, perché c'è una gara, perché c'è da espletare una gara, insomma, quindi, poi, non è che oggi, diciamo, lo facciamo e domani si ha, ci vuole quel tempo necessario. Dottoressa, l'ultima domanda che ci tenevo ad avere, diciamo, un suo parere, riguardante, diciamo, la possibilità di migliorare l'organizzazione della scuola, anche questa cosa, diciamo, quando abbiamo avuto modo di parlare, diciamo, insieme, confrontarci, ho avuto modo di capire che lei ci tiene moltissimo a far sì che le cose funzionino in un modo, diciamo, nel miglior modo possibile. Io sinceramente esprimo, e approfitto dell'occasione, esprimo, diciamo, la mia, diciamo, assoluta stima nei confronti della preside, che mi ha dato modo di capire che invece è una persona che ci tiene molto alla scuola e che, con le quali condivido moltissimo e dei suoi principi, mi sembra che abbiamo parlato spesso, no, assolutamente, io lo dico in assoluta, diciamo, sincerità. e ci tenevo quindi a, diciamo, ad assicurare, diciamo, tutti, tutti, tutti i coinvolti, ragazzi, corpo docente e anche, chiaramente, noi, diciamo, che siamo i genitori sulla questione che noi, come rappresentanti dell'istituto, anche qui c'è annunzio, che ci terremo molto e cercheremo durante i consigli d'istituto e nelle azioni che facciamo nel migliorare soprattutto sia la comunicazione che l'aspetto organizzativo. Volevo soltanto, diciamo, un ulteriore possibile, diciamo, conferma di questo che anche la Preside ci aiuterà nel cercare di migliorare gli aspetti puramente, diciamo, organizzativi. Questo, insomma, anche qui abbiamo un campo praticamente enorme. Io, sono, questo è il mio quarto anno, quindi, così, senza falsa modestia, penso e spero di aver migliorato già qualcosa, insomma, negli aspetti organizzativi della scuola. ho fatto già presente al dottor Costantino varie situazioni, insomma, spiegando un po' di quello che c'è stato in questi anni, insomma, nelle variazioni che comunque insieme con i miei collaboratori ho cercato di portare avanti per migliorare la scuola. Chiaro che, come si dice, bacchette magiche non ce l'ha nessuno. Bisogna lavorare un po' tutti quanti insieme. Lavorare, sì, forse sulla comunicazione. mi rendo conto che è un punto dolente anche se io anche in questo ho cercato di migliorarla utilizzando come dire, dei sistemi oggettivi che sono il sito istituzionale a cui dico sempre di attingere le notizie perché lì ci sono le notizie ufficiali di la comunicazione tramite il registro elettronico Spaggiari che permette di mandare le mail a tutti i genitori e a tutti nel momento però che il genitore anche lo studente si registra e mette una mail perché purtroppo devo anche rilevare che su 100 genitori magari una cinquantina hanno messo quindi il messaggio se io mando un messaggio alla classe non so a quanti realmente arriva. Alle volte si creano delle cattive comunicazioni è vero perché si ha un po' l'uso di non leggere bene e di farsi il passaparola alle volte viene distorto questo purtroppo lo devo rilevare viene distorto per cui mi rendo conto che all'esterno appare magari qualcosa che non è cioè di diverso da come forse perché diciamo nelle realtà un po' piccole come quelle di un non lo so di un paese c'è questa abitura allora io invito sempre ad andare alle fonti perché chiaramente è l'unica cosa che ci permette di salvaguardarci e quindi io cerco di essere quanto più trasparente possibile penso che gli atti lo dimostrino trasparenza significa per me dire sempre le cose come stanno non mi sono mai sottratta ai chiarimenti però questi chiarimenti devono essere fatti sempre nei modi e nei modi e nelle diciamo nei ruoli e nei modi che l'istituzione insomma prevede cioè non accetto se vengono un gruppetto di genitori e vogliono parlare con me tu Kurt così affrontando una questione anche in modo un po' emotivamente calda chiaramente io mi sottraggo ma non che mi sottraggo che voglio sottrarre ma semplicemente perché ritengo che non c'è il modo più giusto di affrontare la questione ecco perché quel venerdì io non ho perché non so se poi magari il dottor Cos si riferiva a questo diciamo non è che non ho voluto ricevere ritengo che sia opportuno parlare in un momento dove quell'aspetto emotivo che purtroppo esiste come per tutti gli esseri umani nessuno di noi è esente da un'emotività che ben venga perché non siamo delle macchine quindi ecco però affrontare le situazioni a caldo con quell'emotività probabilmente non porta alle soluzioni io cerco le soluzioni fondamentalmente non cerco i contrasti cerco le soluzioni tant'è che anche con gli studenti alla fine li ho lasciati tra virgolette fare dice vabbè stanno nei corridoi ho detto vabbè lasciamoli ma non perché perché ho pensato che in quel momento intervenire è chiaro che nei corridoi gli studenti non possono stare questo è evidente perché non ha senso ho ritenuto in quel momento di lasciare un po' decantare quella situazione che poteva creare insomma non so se mi sono spiegato bisogna sempre cioè nella gestione delle cose bisogna sempre mettere sul piatto almeno la mia esperienza mi dice questo mettere sul piatto la bilancia i pro e i contro di una decisione ogni decisione c'è un pro e un contro quindi l'ho lasciato un pochino fare per cercare di trovare un ragionamento infatti loro mi hanno scritto cioè il fatto che io non sia intervenuta non abbia detto ero già intervenuta la mattina dicendo se voi non volete entrare in classe allora se per me siete assenti andate fuori perché a un certo punto insomma la scuola deve anche dare delle regole non potete stare a scuola se siete assenti no? sono entrati in seconda ora però non so volete quindi su quella situazione ho un poco però loro scrivendomi io ho risposto quindi già la scrittura dà un momento di maggiore neutralità alle cose cioè si dice con una forma meno emotivamente meno pregnante che è la cosa che a me serve perché io se vado a parlare con qualcuno che so che è arrabbiato probabilmente non risolvo niente anzi forse peggiora la situazione quindi io sto applicando delle semplici strategie anche di comunicazione io spero che vengano comprese nel verso giusto non individuate come delle sottrazioni di comunicazione che purtroppo non possiamo cioè dobbiamo gestire le situazioni non farci non farci gestire il compito di un dirigente è di gestire è come un capitano voi siete qui della zona usate molto il mare nella vostra vita è sempre presente sapete bene che come dire nelle situazioni di tempesta bisogna governare la nave senza cercare di andare come dire di evitare il peggio però magari se decidete di andare a nord andate a nord ovest in quel momento e poi riprendete non so vabbè sono semplici strategie di tutto qua insomma che mi danno la mia piccola esperienza insomma tutto qua e questo è quanto dunque credo che la preside è stata oltremodo esauriente mi trova totalmente d'accordo anche sull'ultimo concetto vi invito quindi a profitto dell'occasione nel quando ci sono delle dimostranze o comunque delle informazioni quel che serve che possiamo essere noi utili i genitori a rivolgersi ai rappresentanti di classe che sicuramente riporteranno a noi rappresentanti di istituto che provvederemo nelle sedi giuste e con i toni giusti soprattutto perché noi qua siamo a scuola e dobbiamo prima essere noi maestri di vita per i ragazzi state sicuri che noi del rappresentante di istituto andremo a portare tutto quello che è nostra competenza all'attenzione della preside la preside stessa mi potrà assicurarvi che io siamo quasi giornalirmente in contatto e lei con molta pazienza e professionalità ci assiste nei tempi nei tempi giusti quindi con questo penso che possiamo concludere l'intervento io ringrazio la professoressa Tusi la preside della scuola ringrazio gli intervenuti diciamo qui da noi il nostro amministratore Nunzio e anche gli altri rappresentanti che hanno sostenuto questo nostro intervento e anche Pago Ioannuzzi che è stato gentilmente disponibile e sensibile alle problematiche di questa scuola grazie e alla prossima grazie